E' stato denominato Frigo Solidale il nuovo progetto ideato da Kendla Onlus, finanziato da Fondazione Con il Sud, nell'ambito dell'iniziativa Con il Sud che partecipa. E' realizzato in collaborazione con l'APS Farina 080 Onlus, l'Inc Sindacato Studentesco, Giona Franca, De Hub e Comune di Bari. Si tratta di un'idea nata con l'obiettivo di favorire la cultura del dono e della condivisione, nonché la riduzione dello spreco alimentare. Ben sette frigoriferi saranno distribuiti in vari quartieri di Bari, in modo che i cittadini in difficoltà potranno soffrire del cibo che altri volontariamente potranno lasciare. Questa iniziativa è stata presentata dall'assessore al welfare del Comune di Bari, Francesca Bottalico, e dagli ideatori del progetto. I frigoriferi saranno posizionati in sette spazi chiusi, aperti al pubblico, ed i volontari si prenderanno cura degli stessi e dei beni conservati. Vi saranno anche delle norme da rispettare, necessarie a garantire la corretta conservazione degli alimenti. I luoghi scelti per posizionarli sono Impact Hub, Palazzo Ateneo Secondo Piano, Zona Franca, Centro Aperto per le Famiglie Orizzonti di San Pio in Via della Felicità, Parocchia San Sabino a Iapigia, Via Caduiti del 28 luglio 1943, Casa delle Culturi in Via Barisano da Trani, e Scuola Open Source a Bari, Vecchia, Strada Lamberti.